Doppio appuntamento quest'oggi e domani mattina a Villa Magnolie, succursale del liceo Cassini di Sanremo, per una conferenza aperta al pubblico che vedrà protagonisti Giancarlo Caselli, magistrato simbolo della lotta al terrorismo e alla mafia, e il filologo Corrado Bologna, autore di molti libri dell'editoria scolastica. Il tema del dialogo tra i due, la giustizia, a partire proprio da un'attualizzazione della giustizia dantesca, da cui il titolo della conferenza Giustizia mosse il mio altro frattore, Dante, inferno, canto terzo. Ma naturalmente con il procuratore Caselli davanti, l'argomento principale, ancora una volta la mafia, visto che nelle ultime ore il direttore della DIA, Maurizio Vallone, ha detto che la mafia albanese ha preso in subappalto in Liguria la gestione del traffico di droga dall'Andrangheta. Abbiamo chiesto cosa ne pensa proprio a Giancarlo Caselli. La DIA, colgo l'occasione per ricordarlo, è una creazione di Giovanni Falcone. Quando viene cacciato, sostanzialmente cacciato da Palermo, perché a qualcuno non andava più bene, perché invece di occuparsi soltanto di malacarne, mafiosi di strada, cominciava ad occuparsi anche di rapporti tra mafia, politica, affari e via seguitando, va a lavorare al Ministero della Giustizia e qui si inventa, crea la Procura Nazionale Antimafia, le Procure Distrittuali e la DIA, questa specie di FBI italiana con competenza antimafia sull'intero territorio nazionale. Quindi quando parliamo di DIA parliamo di una eredità importante che ci ha lasciato Giovanni Falcone. Vallone, per quanto lo conosco personalmente, ma il mio giudizio sicuramente non aggiunge, ne toglie non molto, è un uomo di assoluto, eccezionale valore. Quello che dice è sicuramente rispondente al vero, frutto dell'esperienza, delle indagini, delle conoscenze che lui, la sua squadra, la DIA hanno raccolto. D'altra parte che ci siano punti di collegamento, io ripeto, direttamente per quanto riguarda la realtà genovese non so nulla, non posso che confermare per stima perché so che quando parla non parla sicuramente a Vangola ciò che ha detto Vallone. Ma in generale i rapporti fra l'Andrangheta e alcune organizzazioni criminali straniere, soprattutto per ciò che riguarda, come dire, traffici, attività che coinvolgono due paesi, ciascuno per la parte della sua competenza, come in questo caso l'Albania per la droga, l'Andrangheta per lo smercio, magari anche non soltanto in Italia, ecco sono cose secondo logiche buon senso prima ancora che siano verificate e autorevolmente confermate da Vallone. Un incontro particolare, il suo diviso in due tra la cittadinanza e i ragazzi su un argomento attraverso molto particolare, quali c'è il casino, un incontro storico per la città di Sanremo. Io ai ragazzi cerco di dire, anche con questo libro che ho scritto insieme al mio amico e collega Guidolo Forte, che si intitola appunto così, cerco di dire ai ragazzi che la giustizia conviene perché l'illegalità ci rapina un'infinità di risorse, emasione fiscale, corruzione, mafie. Se avessimo queste risorse migliorerebbe di gran lunga la qualità della nostra vita, si vivrebbe meglio, il futuro dei giovani potrebbe essere più roseo rispetto alle prospettive che oggi magari uno può realisticamente, tenuto conto della crisi da Covid, da guerra, nutrire. Tutto qui, ecco, poi ci sono naturalmente tante altre considerazioni nel libro, tante altre cose di cui parleremo con i ragazzi, anche oggi con l'esperto di Dante Alighieri cercheremo un confronto tra quel che è la Divina Commedia sul versante legalità, giustizia, parole dette a questo e le impressioni conseguenti di uno che dal punto di vista dantesco è assolutamente ignorante come me, ma che per quanto riguarda questi temi ha forse una qualche pratica professionale che può aiutare a far fiorire questo confronto che francamente non so bene come andrà. Grazie.